Sono Gianfranco De Rosa e da oltre 30 anni mi occupo di produzione di film, spot e tv. In questo video parleremo del ruolo dell'attrice, dell'attore. Spesso mi è capitato nella mia carriera che mi domandano come si fa a diventare un'attrice di successo, un attore di successo. Beh, questa è una domanda a cui non ho mai saputo rispondere, ma non credo che nessuno possa rispondere. Io posso aiutarvi nel dirvi come si può diventare un buon attore o come si può diventare tale, e cioè un attore, un'attrice. E il percorso che si può fare, secondo la mia esperienza, ma addirittura un attore di successo, un'attrice di successo, quello credo che non sia alla portata di nessuno. Allora, anzitutto la formazione. Basatevi sulla formazione. Quella è una cosa fondamentale. Poi il teatro. Quindi seguire il percorso del teatro è un altro elemento importante che vi darà poi le opportunità. Anche nel cinema, molti registi vanno al teatro per scoprire dei talenti. Poi trovarsi un buon agente, un'agenzia, ma questo lo parleremo poi in un capitolo successivo, sempre di questi, di cinque minuti che farò, di consulenza che vi darò sul canale di cui sono ospite Cinebooking. Quindi non posso adesso parlarvene poi dopo di... Ecco, un'altra opportunità è proprio proporsi su Cinebooking con una scheda proposta. Quindi stavamo dicendo l'agenzia che ne parleremo poi successivamente e il percorso formativo e i cortometraggi. Per esempio, fare dei cortometraggi è sicuramente un laboratorio che vi può dare una base per quella formazione che poi dopo vi darà l'opportunità per il grande film, il grande salto. Ecco, poi i film ce ne sono tanti, i casti ce ne sono tanti, però di qui adesso noi parliamo in questa clip, noi parleremo soltanto di quali possono essere le opportunità, che cosa bisogna fare per diventare, per essere un attore. Ecco, un'altra cosa, dimenticarsi di fare il figurante, cioè di prendere, di seguire. Sono due percorsi diversi e anche lì poi faremo un capitolo e parleremo di figuranti. Quindi se volete fare l'attore non andate sul set per fare i figuranti. Se volete fare i figuranti andate sul set per fare i figuranti. Anche se abbiamo poi in passato delle situazioni, di esempi che ci sono stati di persone che dal figurante poi sono diventati degli attori, ma insomma piuttosto discutibili. Oggi voi mi direte, eh ma come mai ci sono gli influencer, il cinema prende tante persone che vengono dal web, dagli youtuber. Quello purtroppo è un fenomeno che non andrebbe associato poi all'attore. Però oggi è un mercato che incide il fatto che una persona abbia un seguito e sicuramente anche in quel caso lì avrà un, e non dovrebbe essere così, un'opportunità poi magari ad arrivare al cinema in un film solo per il fatto che magari si porta dietro un seguito. Ma questo è sempre stato così, ma anche in politica, se uno ha un seguito diventa un esponente politico o meno. Quindi, ricapitolando, il percorso della formazione in primis, il teatro, i cortometraggi, e questo rientra ecco nelle opportunità che poi possono far diventare un buon attore, poi che diventi di successo, questo è un altro discorso, però nelle opportunità che una persona può avere nel corso della propria, diciamo così, carriera, e quindi seguire queste fasi, diciamo così, di queste tappe. Poi è chiaro, fare tanti casting, questo sicuramente aprirà più le porte, e quindi seguire tutta una serie di opportunità che gli si vengono proposte e cercare di non essere troppo selettivo, quindi cercare di prendere un po' tutto agli inizi e di fare esperienze su più set. Detto questo, io vi lascio alla prossima clip, poi parleremo sul canale di cui siamo ospiti, sul canale di cinebooking.com, parleremo di altri argomenti che riguardano la produzione di cinema, televisione, spot e tutto ciò che riguarda l'audiovisivo. Grazie.